Sono contento perché questa sera vado al cinema con la mia ragazza e sono felice. Siamo felice perché questa sera vado al cinema con la mia ragazza e stiamo un po' insieme. E' bella, è gentile, è romantica. E' una persona piacevole. E' una delle più belle fidanzate del mondo. E' una persona scherzosa, è una persona con cui tutti vorrebbero essere. E' una persona gentile. E' una persona che come me ha tante passioni. La prima è quella di fare la maglia. Mi piace tantissimo fare la maglia. Mi piace tantissimo disegnare. Ad Angelo piace tantissimo disegnare. Mi piace molto lavorare al computer. Mi piace molto scrivere. Mi piace molto leggere libri. Mi piace molto tenersi informata. E' una persona gentile con cui tutti vorrebbero essere. E' una persona che se può ti aiuta. A me manca realizzato il sito internet. A me manca realizzato il sito internet. Anzi grazie Angelo per aver realizzato il mio sito internet. E' una persona coinvolgente. E' una persona ingegnosa. Angelo è una persona ingegnosa. E' una persona che si deve fare. E' una persona gentile. E' una persona cara. E' bella. E' intelligente. Mi piace conoscere. Gli piace molto. Ma anzi. Angelo è così. E' una persona intraprendente. Ed è una persona che si può. Ti dà amore. E' un'altra persona che si può vedere. Solo vedendolo. Te ne innamoreresti. Ciao Angela.